tre cose da imparare durante le vacanze se siete freelance professionisti professionisti insomma se lavorate per conto proprio ma anche solo se lavorate se avete degli obiettivi da raggiungere e se anche voi come me non amate usare le vacanze soltanto per riposarvi perché dopo un po vi annoiate anzi le volete sfruttare per fare cose che non avete tempo di fare durante il resto dell'anno per esempio imparare cose nuove beh allora vi racconto tre cose che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi lavorativi ma non solo questo video in collaborazione con fisco zen il team di consulenti che vi aiuta a gestire la partita iva del quale vi parlo meglio più tardi nel frattempo per però vi dico solo che trovate un succoso link in descrizione che vi fa accedere con uno sconto di 50 euro sul vostro primo abbonamento e allora cominciamo subito con la prima cosa da imparare durante le vacanze la prima cosa che vi suggerisco di imparare sono le automazioni questo è un mondo che non si può più ignorare non si può ignorare se lavoriamo e in particolare non possiamo ignorarlo se lavoriamo per conto nostro e quindi il tempo che abbiamo a disposizione è preziosissimo sapete se mi seguite che esistono ormai dei software che permettono di collegare tra di loro diverse applicazioni tra poco li vedremo questi software automatizzando tutti i processi che ci stanno in mezzo sostanzialmente ci fanno risparmiare un sacco di tempo in tutti quei casi in cui non è necessario l'intervento umano perché non serve la creatività dell'essere umano beh noi possiamo affidare a un software questi processi per non doverli fare noi non solo risparmiando un sacco di tempo ma risparmiando anche un sacco di stress mentale micro stress naturalmente perché parliamo che ne so io di inserisci questo campo dentro il foglio di google certo non è una roba che ci fa perdere il sonno di notte ma sommando stress su stress micro stress su micro stress beh noi arriviamo a sera col cervello fuso con i software di automazione noi possiamo risparmiarci questi sforzi e possiamo delegarli a un programma io in questo momento avrò circa un centinaio di attiva di automazioni attive e beh questo centinaio di automazioni attive non ho mai fatto un calcolo preciso però io credo che mi facciano risparmiare tra le 20 e le 40 ore di lavoro alla settimana perché sono davvero tante le cose che possiamo affidare un software e beh cavoli parliamo praticamente di una persona assunta di una part time addirittura di un tempo pieno immaginate quanto tempo io riesco a risparmiare per dedicarlo al lavoro di qualità meno cosine da fare più lavoro creativo per me e allora con che cosa automatizziamo i processi beh trovate molti video a questo proposito sul mio canale sostanzialmente gli strumenti che vi consiglio sono tre ve li do in ordine di complessità quindi dal più facile da usare al più complicato ma anche in ordine di potenza alla fine vi dico qual è quello che uso io e allora il primo strumento che vi suggerisco è if this then that if ttt che è decisamente il più semplice da utilizzare è stato il primo ad essere inventato vi permette nel momento in cui succede qualcosa in un'applicazione di automatizzare quello che succede in altre applicazioni che ne so io ogni volta che ricevo una mail salva gli allegati dentro dropbox oppure ogni volta che pubblico un video su youtube fai un tweet su twitter in cui lo linki questo è il concetto di this then that da questo poi nascono applicazioni da questo concetto nascono applicazioni più complicate ma decisamente più potenti per esempio zapier o zapier che dir si voglia trovate tra l'altro il video completo nel mio canale zapier è la stessa cosa di this then that ma è più potente perché vi permette di creare dei flussi di lavoro quindi di fare accadere nel momento in cui c'è un evento scatenante più cose più eventi ma il software più potente in questi termini a mio parere è make una volta si chiamava integromat trovate diversi video sul mio canale a proposito di questo software ed è quello che vi permette di effettuare i flussi di lavoro di automazione decisamente più avanzati addirittura voi con make potete creare dei veri e propri piccoli software insomma con questi tre strumenti voi avete la possibilità di delegare a una macchina delegare un software un sacco di quelle piccole cose che avreste dovuto fare voi e risparmiare un sacco di tempo certo arrivare a utilizzare strumenti come make vi richiede un po di apprendimento ed è per questo che vi dico buttateci dentro qualche oretta durante le vostre vacanze provate a esplorare questo mondo perché sicuramente non rimarrete delusi e deluse vi ricordo che trovate molte risorse sul mio canale qualcosina ve la link anche in descrizione e prima di proseguire se siete freelance o state progettando di diventarlo vi interesserà sapere che questo video è realizzato in collaborazione con fisco zen il team di consulenti fiscali il cui scopo nella vita è aiutare chi ha la partita iva a superare gli ostacoli della burocrazia e realizzare i propri sogni professionali il concetto di base è meno seccature più lavoro di qualità con fisco zen avete a disposizione un software completo che oltre a farvi fare le fatture anche in formato elettronico vi avvisa delle scadenze è importantissimo vi fa una stima di quantità se dovete pagare l'anno successivo ma il vero valore aggiunto che avete a disposizione è un team con un consulente a voi dedicato pronto a rispondere ai vostri dubbi e quesiti e incluso nell'abbonamento la dichiarazione dei redditi e l'apertura della partita iva potete contattare il team di consulenza di fisco zen gratuitamente prima di abbonarvi al servizio per inquadrare la vostra situazione e rispondere ai primi quesiti il costo di fisco zen è già molto competitivo ma se usate il link in descrizione avete un ulteriore sconto di 50 euro sul vostro primo anno la seconda cosa che vi suggerisco di imparare è la content creation in questo caso potremmo chiamarlo anche il content marketing cioè la creazione di contenuti online di video di post di audio di testi che vi permettono di acquisire un pubblico persone che vi seguono e che si fidano di voi e che nel tempo potete convertire in clienti oppure le quali potete vendere dei prodotti e dei servizi perché oggi se lavorate in proprio se siete freelance non basta più essere bravi e brave nel vostro lavoro ma dovete anche saperlo raccontare se non imparate a fare content creation se non avete il vostro canale di comunicazione se non avete dei luoghi dove le persone vi possono incontrare beh state lasciando sul piatto delle grosse opportunità sono finiti i tempi in cui un bravo professionista trovava i clienti con il passaparola c'è anche solo dire il passaparola non vi suona di vecchio insomma oggi i clienti si trovano online certo tutti gli strumenti che abbiamo offline per fare bene il nostro lavoro sono sicuramente utili e naturalmente do per scontato che siate dei bravi e delle brave professioniste perché senza di quello non si va da nessuna parte ma una volta assodata quella che è la base dalla quale non si scappa beh i clienti li troviamo online e allora dobbiamo lavorare dobbiamo coltivare dei progetti online che ci permettano di raggiungere quel risultato e attenzione avere un canale di comunicazione che funziona richiede tempo richiede almeno un annetto di lavoro intenso ma il più delle volte ce ne vogliono anche due o tre non è una cosa che si ottiene dall'oggi al domani e quindi anche se oggi voi dite io non penso di avere bisogno di questa cosa perché sto bene perché il mio lavoro va bene così beh cercate di guardare sempre un passo avanti perché anche da questo che si che c'è la differenza tra un bravo professionista e uno che vive la giornata e allora immaginatevi anche voi fra due fra tre anni chissà quali crisi chissà quali situazioni e immaginatevi di dover trovare dei clienti con metodi che oggi non state considerando beh la creazione di contenuti online è sicuramente uno dei principali il concetto di base è abbastanza semplice da capire voi dovete creare dei contenuti ripeto dei video degli audio dei testi delle immagini sui social su youtube sul vostro blog sul sito web insomma creare dei contenuti online che diano del del valore alle persone che diano delle informazioni utili alle persone che vi seguono quindi secondo step alimentate il pubblico i contenuti vi permettono di aumentare il numero di persone che vi seguono piano piano fidelizzate dicono quelli bravi queste persone quindi le persone iniziano a fidarsi di voi e come ultimo passaggio per questo vi dico che ci vuole tempo potete monetizzare le persone che vi seguono nel vostro caso se siete freelance se lavorate per conto vostro il concetto è potete convertirle in clienti potete vendere loro i vostri prodotti oppure i vostri servizi ripeto iniziate a lavorare adesso su questo punto prima che sia troppo tardi vi suggerisco tre piattaforme dalle quali vi consiglio di cominciare che sono youtube instagram e tiktok non tutte tre sceglietene una meglio incominciare da una sola piattaforma coltivarla bene lavorare bene su quelle poi spostarsi su altre man mano che le piattaforme che abbiamo già cominciato a coltivare stanno crescendo e vi suggerisco di usare una di queste tre perché sulla base di quelle che sono le vostre esigenze anche i vostri obiettivi youtube è sicuramente oggi la piattaforma più potente per fare content marketing e la piattaforma che permette ai vostri contenuti la maggior durata nel tempo e anche la migliore fruizione da parte delle persone quindi la maggiore fidelizzazione da parte dei vostri utenti ma è anche la piattaforma che ad oggi richiede probabilmente il maggior sforzo per funzionare bene perché creare un video insomma richiede molto tempo creare dei video tendenzialmente più lunghi rispetto alle altre piattaforme richiede tempo e poi servono anche delle competenze serve l'hardware le fotocamere le webcam insomma youtube è di sicuro impegnativo se avete voglia di fare un bel investimento sia in termini di energia richiesta che di tempo per lavorare sulla piattaforma youtube è sicuramente la vostra scelta diversamente potete anche pensare di cominciare con instagram che probabilmente ad oggi la piattaforma più universale chiunque al mondo praticamente a instagram è sicuramente una piattaforma che vi permette più variabilità di contenuti quindi magari non volete fare video e allora fate i post non volete andare in diretta e allora programmate le cose che pubblicate avete le stories insomma avete molta possibilità di realizzare cose con creatività e anche di interagire con le persone che vi seguono direi che oggi probabilmente instagram è la piattaforma social sulla quale è più facile crescere in maniera sana e organica più facile su instagram che su tiktok in realtà il terzo suggerimento che vi do è tiktok dove apparentemente la crescita è ancora più veloce rispetto a instagram perché perché salgono molto facilmente il numero di iscritti c'è da dire che ad oggi secondo me gli iscritti di tiktok hanno ancora un pochino meno valore rispetto a quelli che abbiamo su instagram che a loro volta hanno meno valore rispetto a quelli di youtube tiktok è sicuramente una piattaforma da tenere in considerazione perché in questo momento in grande ascesa arriva sempre più pubblico su tiktok e di conseguenza è comunque piuttosto facile crescere e credo che ormai tiktok si sia ritagliata e sempre di più si ritaglierà un bello spazio all'interno delle piattaforme che utilizzano le persone per informarsi oppure per svagarsi insomma vi suggerisco di partire da una di queste piattaforme ma la cosa fondamentale è non ignorate la questione dovete creare contenuti per promuovere e per raccontare il vostro lavoro fatelo prima che sia troppo tardi la terza e ultima cosa che vi suggerisco di imparare è la crescita personale cioè quelle competenze non lavorative tecniche ma extra lavorative umane personali quelle skills direbbero quelli bravi quelli molto bravi direbbero le soft skills che vi rendono persone migliori perché essere delle persone migliori ci rende professionisti più bravi ed efficaci e allora invece di coltivare soltanto la parte tecnico lavorativa della nostra professione beh è bene coltivare quella umana l'empatia la comunicazione efficace l'introspezione la produttività l'organizzazione tutte queste competenze ci fanno ci permettono alla fine della fiera di guadagnare più soldi di essere più efficaci di aiutare più persone insomma se saremo delle persone migliori saremo anche dei professionisti più bravi e allora all'interno di questo grande cappello che la crescita personale ho provato voglio provare in questo video a darvi qualche indicazione di massima anche con dei canali youtube da seguire sulla base dell'argomento così che abbiate anche qualche riferimento e che possiate iniziare da subito a imparare cose che poi potete approfondire con libri con corsi con seminari con quello che vi pare il concetto di base che vi voglio passare è lavorate su di voi come persone come esseri umani prima ancora che come professionisti e professioniste e allora la prima cosa il primo spunto di riflessione che vi do sulla crescita personale è lavorate sul vostro livello di introspezione cioè capite come funziona la vostra mente e come funzionano le vostre emozioni e di riflesso anche capite anche se magari in maniera un po più approssimativa come funzionano quelle degli altri e delle altre persone perché siamo tutti diversi naturalmente in questo senso beh fare questa cosa vi rende decisamente più efficaci nella vita prima ancora che nel lavoro in questo senso vi suggerisco il canale di psi nel gennaro romagnoli uno psicologo che è molto bravo a divulgare concetti di psicologia facili e appetibili per tutti anche per chi è proprio agli inizi rispetto a questi argomenti un'altra cosa molto utile quando si parla di crescita personale a mio parere la produttività l'organizzazione personale cioè imparare a gestire bene il proprio tempo le proprie energie i propri sforzi imparare a programmare imparare a darsi degli obiettivi e in questo caso vi suggerisco il canale di andrea muzi spero di aver pronunciato bene il cognome che oltre che essere campione mondiale di memoria è un ottimo divulgatore per quanto riguarda tutti gli aspetti produttivo organizzativi e più in generale anche di crescita personale un altro tema molto importante se volete crescere come persone è la comunicazione efficace cioè imparare a comunicare bene ciò che desiderate comunicare imparare a raggiungere gli obiettivi anche all'interno di una relazione comunicando bene la vostra posizione farle in maniera assertiva direbbero quelli bravi ma farlo anche mostrando fiducia in se stessi mostrando sicurezza mostrando autorevolezza e così via questa volta vi suggerisco il canale di stefano stefano todeschi che è un grande professionista che ho il piacere anche di seguire nel mio percorso di coaching e consulenza e che visto che sta lavorando benissimo e lo seguo io stesso per migliorare le mie competenze comunicative beh mi sento di suggerirvi ultimo tema di crescita personale che voglio affrontare è il la salute fisica il fitness il benessere fisico la dieta l'alimentazione lo sport beh io ho scoperto che gestire meglio il mio corpo il mio fisico mi rende una persona migliore mi fa lavorare molto molto meglio a partire dal livello energetico che ho a disposizione anche curando un po di più l'aspetto che sicuramente non guasta quando abbiamo a che fare con le persone la postura le sensazioni che provo insomma lavorare sul mio corpo mi aiuta a 360 gradi nella vita in questo caso il progetto è molto famoso probabilmente lo conoscete già se siete anche solo minimamente interessati all'argomento se no seguitele immediatamente project invictus che è probabilmente uno dei progetti italiani più completi per quanto riguarda la salute a 360 gradi e questo è quanto se volete migliorare come professionisti e professioniste migliorate prima di tutto come esseri umani e questo è quanto queste erano le tre cose che vi suggerisco di imparare durante le vacanze se siete dei freelance professionisti professioniste ma più in generale se siete dei lavoratori delle lavoratrici ma più in generale se siete dei maledetti esseri umani insomma imparate queste cose oppure scrivetemi nei commenti che cosa avete imparato che cosa intendete imparare insomma raccontatemi quali sono le vostre prospettive di crescita grazie ancora fisco zen per avere collaborato alla realizzazione di questo video vi ricordo che avete il link in descrizione per lo sconto di 50 euro sul vostro primo abbonamento per quanto riguarda noi vi mando un grosso saluto un abbraccio e ci diamo appuntamento alla prossima ciao